è compagibile una quota di trasporto di ecoballe fuori regione, impianti di vario tipo, dalla termolarizzazione ad altri impianti, ma per un terzo immaginiamo di trasportare questi rifiuti fuori regione, poi vediamo la parte finanziaria, le risorse e quant'altro. Per un altro terzo prevediamo il potenziamento e la riqualificazione dell'impianto STIR di Tufino e Giuliano, dedicando in modo particolare questa nuova tritumagliatura solo alla lavorazione dell'ecoballe e un terzo intervento è quello che riguarda il potenziamento e la riqualificazione dell'impianto STIR di Caivano per destinarlo al trattamento congiunto ai rifiuti di ecoballe, di Villa Riterno e di Caivano. Ora per darvi un quadro riassuntivo della situazione che abbiamo per quanto riguarda le compagnie, noi abbiamo tre siti che sono particolarmente rilevanti.